ciao a tutti nel video di oggi una nuova ricetta di bellezza e questa volta è un prodotto che non viene utilizzato moltissimo e quello che vedete è il risultato finale dopo l'utilizzo di questo scrub per il cuoio capelluto e per andare a realizzarlo vado a prendere come sempre il mio bicchiere di vetro e verso due cucchiai di zucchero di canna due cucchiai di zucchero bianco un cucchiaino di cannella un cucchiaio di succo di limone un cucchiaio di olio di oliva e un cucchiaino di miele mescolo tutto molto molto bene fino ad avere un composto omogeneo ed infine vado ad applicarlo nei capelli se avete i capelli corti utilizzatelo come preferite ovviamente prima dello shampoo se avete i capelli lunghi o molto lunghi vi posso consigliare di realizzare questo scrub o a secco quindi con i capelli asciutti oppure leggermente inumiditi con uno spray dopodiché io faccio in questo modo prendo una piccola noce di scrub e vado a applicarlo sulla linea centrale dopodiché vado a dividere in sezioni le varie ciocchi di capelli e vado ad applicare lo scrub appunto in ogni sezione dopo che ho applicato lo scrub uniformemente su tutta la testa vado a massaggiare con movimenti circolari dopodiché sciacquo molto molto bene lavo i capelli come di consueto e niente con questo è tutto come sempre aspetto i vostri commenti sotto il video ditemi cosa ne pensate iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto il video o solo per sostenermi e niente con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao